Buongiorno, lunedì 5 novembre 2012, siamo in un nuovo mese autunnale, il mese della via di mezzo, ottobre, novembre, un mese centrale dell'autunno diciamo, abbiamo lasciato alle spalle da alcuni giorni le festività dedicate ai nostri santi e ai nostri cari defunti, mi auguro che tutto ciò vi abbia fatto riflettere, ripensare non solo ai defunti ma alla morte in genere per poi poter vivere meglio il presente e la vita, per farla scorrere meglio in maniera più fluida, più sensata nello stesso tempo più spensierata. Ma non ci fermeremo oggi a parlare di questo, l'abbiamo già fatto lo scorso anno con citare il Devoto di Krishna, abbiamo realizzato un paio di video molto belli che trovate sul canale Volutore, risalgono più o meno a un anno fa, andateveli a cercare, così ne approfittate per vedere un po' tutto il contenuto del canale, andando a ritroso e scoprite questi due video che abbiamo realizzato lo scorso anno sulle feste dei santi morti, che sono comunque ancora disponibili e li ritengo molto interessanti. Oggi volevo invece parlare di tutt'altra cosa, visto che il canale Volutore si occupa sì di spiritualità, si occupa sì di tutto un po', perché se tutto è connesso, tutto è tutto, quindi va bene la spiritualità, va bene anche il sociale, va bene anche in un certo qual modo il politico, perché se tutto è connesso all'uno e tutto è uno e tutto è amore, anche la politica è amore, anche potremmo parlare di frutta, di verdura, di castagne, tutto è amore, tutto ci appartiene, tutto è divino e quindi di tutto si può parlare. Voi tra poco comincerete a pensare al panettone di Natale, perché vi verrà proposto in tutti in tutti i supermercati, in tutte le vetrine, non mancherà molto, a giorni vedremo esposti i panettoni ai supermercati. E mentre voi pensate al panettone, i nostri cari politici pensano alle poltrone. Per voi a Natale è importante il panettone, per loro sono importanti le poltrone, tanto il panettone glielo paghiamo noi, state pur tranquilli, su quello non c'è problema, gli paghiamo il panettone, lo spumante, tutto il pranzo natalizio e gli paghiamo anche i regali per i loro figli e i loro nipoti e i loro pronipoti, di questo statene pur certi. Il paradosso di questo periodo è che si continua a parlare di antipolitica e si attribuisce con il termine antipolitica a tutto ciò che invece è politico. Questo credo sia il paradosso di questi tempi e se la gente non capisce che tutto ciò che viene dichiarato dai media in questi tempi antipolitico è politico, chi non lo capisce questo vuol dire che è ancora sommerso dall'ignoranza profonda. Perché dico questo? Viene accusato il Movimento 5 Stelle di fare dell'antipolitica e questo è un paradosso perché il Movimento 5 Stelle non fa assolutamente antipolitica, fa politica. La politica non è mantenere quattro sederi caldi in poltrona e strapagarli, la politica è la volontà del popolo, è la sovranità popolare. La democrazia non è delegare a un gruppo di persone che non sappiamo nemmeno chi siano le nostre decisioni, il nostro futuro. La democrazia è partecipazione diretta, è impegno. Dobbiamo assolutamente mettercele in testa e convincerci di queste cose perché è su queste cose, su queste basi che si lavora, che si decide e si edifica il tutto. Allora se noi non abbiamo ben chiaro in testa queste basi, capita bene che non si può lavorare. O meglio, noi non possiamo lavorare. Contrariamente gli scaldasedie che noi abbiamo deciso ci governano, lo possono fare, ma a loro piacimento, perché noi gli abbiamo semplicemente dato una delega, gli abbiamo detto, vai là, mi fido di te e fai quello che vuoi. Allora, è antipolitico un movimento che ti dà la possibilità veramente di entrare in democrazia con la partecipazione diretta? O è antipolitico chi ti dice vado io a rappresentarti, tanto poi facciamo quello che voglio io e non quello che vuoi tu? Io credo che non sia difficilissimo rispondere a questa domanda. Certo va posta nel modo giusto, ma i mezzi di informazioni mediatici non ve la pongono nel modo giusto, chiaramente, perché non vogliono la vostra risposta, dà fastidio a loro la vostra risposta. E allora ci si continua a girare attorno con paroloni, con discorsi sfalsati, con informazioni fasulle, in modo da garantire a loro signori le poltrone e a noi il panettone, magari di bassa qualità, perché i bilanci sono sempre più bassi, sempre più poveri, si fa sempre più fatica. Il capitalismo richiama al capitalismo, il capitale richiama al capitale, il soldo va dove c'è sempre più soldo. E così le multinazionali, pur di arricchirsi, cercano sempre di impoverirci, di farci acquistare quello che vogliono, di farci scegliere quello che vogliono, di indottrinarci verso una cultura che porta solo a loro profitto, infischiandosene del danno che può provocare al popolo. Io dico che se vi va bene tutto questo, e se volete continuare a rimanere malinformati, a non essere partecipi, a seconda delle vostre possibilità, della vostra democrazia, convenga andare avanti così. E state pur tranquilli che le cose non si risolveranno. Ma se veramente vogliamo optare per il cambiamento, occorre aver ben chiaro il concetto di democrazia, di politica, di coerenza, di volontà. La democrazia non significa delegare qualcuno e stare ad assisterlo. La democrazia significa partecipazione diretta. Significa che la mia voce non solo ha un peso, ma deve esserci. Io devo rappresentare nella mia misura di cittadino. Io devo esercitare nella mia persona di cittadino il diritto, non solo al voto, ma devo essere parte del potere decisionale. Questo significa la democrazia. Significa partecipazione. e la politica non è niente meno che ciò che io devo fare nel mio piccolo per far sì che le cose vadano al meglio per me e per tutti. Perché se vanno bene per tutti vanno bene anche per me. Se non vanno bene per tutti prima o poi andranno male anche per me. E allora dobbiamo dimenticarci di certi giri di parole che sollevano tanto fumo verso i nostri occhi per farci vedere in maniera torbida, per confonderci, per non farci ragionare. Perché a questa classe dirigente il nostro ragionamento dà fastidio. è importante il loro, perché noi abbiamo eletto loro e adesso loro di noi possono fare quello che vogliono. Noi dobbiamo essere consapevoli che siamo noi i responsabili del nostro futuro. Sento ancora troppa gente dire ci vorrebbe uno che dice faccio quello che voglio io adesso e basta. Così si mette a posto tutto. Non si mette a posto niente. Ci vorrebbe un popolo intelligente e sovrano. Beh, pretendi troppo? Qualcuno mi dirà. Forse è vero, pretendo troppo. C'è tanto menefreghismo, c'è tanta gente che va istruita, che va informata. Ma non arrendiamoci, informiamo e apriamo gli occhi della gente, apriamo le menti della gente. Noi che sappiamo farlo, noi che possiamo farlo, affinché finalmente la menzogna e l'informazione disonesta non abbia la meglio. Grazie a tutti per la cortesa attenzione. Buona giornata.